ciao tuttavia oggi venuta a cena oggi voglio cenare insieme a voi questa è la mia cena oggi ho fatto un uovo con la cipolla cotto con la cipolla parecchia cipolla poi accompagnato dall'insola salsicchi però ho fatto con il kefir oggi non ho messo lo yogurt ma il kefir e le ultime minuncelle che troviamo adesso non si trovano più le minuncelle perché questa è una cosa estiva queste sono le ultime ok allora voglio cenare insieme a voi volevo dire una cena semplicissima cipolla un uovo poco poco di grana e poco poco di formaggio gattugiato grana e un po di origano messo questo è tutto poi vedete che il mio sughetto è bianco perché ho usato il latte di soia ok qualche pomodorino a crudo qualche tarallino eccolo i tarallini integrali con i 5 cereali e rigolosamente la mia acqua limone e gendero e questa è la cena dell'alina buonasera a tutti amici e buonasera a tutti ciao 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 ciao